ok vediamo qua dentro che succede allora porta aperta una robe e non c'è nessuno con le maniere più gentili e l'altro proprio libero libero c'è sopra un attimo la porta pochino che vediamo se qualcuno di qua si c'è un tizio con una pistola in mano proprio dritto dritto proprio dritto come cazzo hai fatto con la porta chiusa attraverso la porta era bagato si tutte e due bot di aspetta c'è il tipo dietro merda puttana ok qua dentro c'è un bagno e c'è un omino ed è armato questo ok allora gli spacchiamo al culo a questo ok è proprio piano speriamo che non schiatti lo stagio che è davanti al c4 oh merda è uscito cazzo cazzo è uscito tipo stonato ragazzi ho raggiato la cosa come gli ha buttato dentro la granata secondo me era già stonato dalla dalla bomba perfetto direi ok libero ok oh c'è qualcuno rick sento che oh cazzo flash aspetta vai guardo dietro è andato direi è andato direi aspetta che copro dietro non è andato nell'altra stanza ok non ci sono altre uscite deve essere qua per fronte io faccio saltare scomma lancia la flash e tu entri ok 3 2 1 lì soggio stagio stagio ostaggio stagio ok alle altre porti sono prerlo tu ok non mi ha fottuto quindi ivanti tu in tre ok ok Eccola c'è uno, la c'è uno. No, non l'ho visto attraverso. E' da... E' da che va in giro, il cazzo di suo, eh. Non ti ha visto. Non preoccupava sto ufficietto. Ah, è un capannone, si. C'è uno qua a destra anche. Si, era in fondo, guarda. E' armato, non si capisce. Ehm, secondo me si. C'è qualcosa in mano. Si ha un'arma, un'arma. Abbattilo, abbattilo. Ok. È un'arma, abbattilo. Non entriamo, non entriamo dalla... Prova a so chiudere, aprirlo un attimo. Dietro a sinistra c'è una parte con una persona. Prova a aprirlo un attimo e chiamarglielo. Ma chi? Io. Si. Sto bloccata? Bloccata. Ok, sfondo. Un attimo prendo, ok. È proprio davanti dritto, per cui attenti. Vai, pronto. Oh porca troia, che cazzo è successo? C'era una bomba. Non l'ho vista. Cazzo scumo. E' mandato il plomo al patevole. Lo possiamo ricominciare? Ok, uno in fondo dritto. In fondo, in fondo, in fondo, dritto. Un'altra appole. Ok, vedo solo uno in fondo dritto. Eh? Ora entro con lo scudo dritto. Secondo me è armato. Sì, è armato. E' uno in fondo... E' uno in fondo a sinistra armato. Ok. Stanno facendo ronda. Adesso si stanno... Sono vicini. Dritti. Vai, togli la spoletta. L'ho già tolta. Vado. Vai, dentro. Fondo a sinistra. Ok, a terra. Guarda, è andato. Quello a destra. Occhio a destra. Dove sei scumo? Ah, dove hai ucciso il tipo... Il pezzo di magazzino. Ok. OH CAZZO! Merda, non dobbiamo separarci, cazzo. Eh, c'è uno stronzo che è tornato dentro, mi sa. Ok, dai, flash. Con dietro di voi. Flash, io sfondo. Pronti con la grazia. Ok, aspetta. Buttò la flash io? Che cazzo ha aperto? OH MERDA! NO! Nooooo! Che cazzo è successo? Cazzo, gli ho sparato proprio all'ultimo. Mi ha aperto la porta in faccia mentre avevo il... Il cogo. Sì.